ben ragazzi questo video ho fatto completamente a caso e sono ancora uscito ieri io non lo so faccio a vedere io ho dei salutarmi del 99 che è il mio miglior amico secondo me è una persona una persona brava mi raccomando non devi scrivere il nostro canale doma stagione 19 ore presto faremo un video insieme quindi sono stati attivi niente cioè l'uomo stagione cioè in realtà si chiamano ma secondo me è una persona brava è anche il mio miglior amico quindi andatevi a scrivere nel suo canale l'uomo stagione 99 e niente mi raccomando ricordatevi iscrivervi al canale se non l'avete fatto 15 like e vi faccio un blog in bici e andate sul canale di nuovo master ciao ciao